Sul Veneto persiste una circolazione ciclonica e permangono i piovaschi e condizioni generali di instabilità. Già dal primo mattino di domani sono probabili le precipitazioni a tratti diffuse sui settori orientali. Nel corso del pomeriggio è previsto un moderato aumento dell'instabilità con probabili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone montane e pedemontane. Per questo il centro decentrato della protezione civile della regione Veneto segnala la possibilità di innesco di fenomeni frannosi superficiali sui versanti e la possibilità di colate rapide specie nelle zone di allertamento nell'area del piave pedemontano con particolare riferimento alla zona dell'Alpago già interessata da fenomeni di dissesto localizzato.